allora ragazzi per poter trovare sistemi corrotti quando cerchiamo sistemi corrotti quando noi cerchiamo il sistema dobbiamo concentrare sulla scritta diciamo in giallo per esempio qua ci dice 202 anni luce o 0p non so che cosa sia c'è acqua quindi sono sistemi con acqua noi dobbiamo cercare nella scritta lì ecco qua dissonante vedete qui nel sistema dissonante ci stanno pianeti corrotti andiamo subito pianeta congelato per capirlo dobbiamo vedere sul pianeta ecco qui guardate pianeta caustico ma se vedete la sentinella sono corrotte quindi ne abbiamo trovato uno grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.